OST 2021 continua, ci troviamo allo stand della Zerica SRL, una azienda palermitana presente in tutto il mondo e con oltre 80 anni di storia oggi, molto ben rappresentata da Alessandro Albanese, il responsabile commerciale. Alessandro, benvenuto. Ciao Fabio, ben trovato dopo questi 18 mesi di assenza. 18 mesi lunghissimi per tutti, 18 mesi che tutti hanno vissuto, diciamo anche in manomodo, viste le circostanze, ma che per voi hanno rappresentato una vera e propria opportunità. Che cosa è accaduto negli ultimi 18 mesi in Zerica? In questi 18 mesi Zerica ha continuato nel suo processo di crescita e sviluppo che ormai la caratterizza da diversi anni. Tutti voi ormai conoscete Zerica, l'ha intervistata più volte, quest'anno abbiamo festeggiato i nostri 90 anni di storia. Zerica produce e commercializza erogatori d'acqua e soluzioni innovative per la gestione dell'acqua per uso domestico, oreca e professionale da 90 anni appunto, presso il nostro stabilimento di Termini Merese in Sicilia con un ufficio commerciale situato a Palermo, collabora costantemente con la branch inglese a Cambridge dove avviene lo sviluppo dell'ingegneria software digitale delle macchine. Bene, negli ultimi 18 mesi non abbiamo fatto altro che dar seguito a quello che è il nostro payoff, il nostro motto aziendale, assetati di innovazione, al quale oggi si aggiunge anche un'attenta ricerca di soluzioni sostenibili nei confronti dell'ambiente, sostenibili nei confronti dei consumatori. Per cui abbiamo sviluppato delle soluzioni innovative nel design, nella tecnologia e nella gestione sia per il settore domestico che per il settore degli uffici. Alle mie spalle abbiamo alcuni esempi delle nostre innovazioni, sono state chiamate Omni e Supra, due attrezzature eccezionali compatte. La Omnia è la più piccola e compatta soluzione per erogazione d'acqua ad uso domestico da piccolo ufficio che contiene in un unico cabinet dalle dimensioni veramente ridotte sia la parte di refrigerazione che la parte di filtrazione e realizzazione per l'acqua frizzante e gasata. Accompagna la Omnia, la Supra, una macchina eccezionale che può essere personalizzata secondo i gusti e colori graditi all'utenza, anche lei in grado di erogare acqua naturale, acqua frizzante e acqua fredda. Soluzioni che danno seguito alla nostra grandissima attenzione nei confronti dell'igiene del prodotto erogato, alla facilità di gestione e manutenzione per i nostri partner, gestori, installatori nonché utilizzatori finali quali possono essere appunto le piccole utenze domestiche o d'ufficio. Le grandi innovazioni avvengono poi anche nell'ambito del design, siamo convinti che le case e gli uffici siano sempre più interconnesse con gli utilizzatori e con i frequentatori, ecco che quindi hanno avuto vita la iWall, un eccezionale erogatore da incasso da parete che rende le nostre pareti delle cucine degli strumenti di altissima tecnologia e ingegneria tecnologica. Oppure per l'oreca di nuova generazione, moderno, sempre più attento ai bisogni della propria ospitalità, la natura on top, un concentrato di innovazione digitale, qualità nell'erogazione e distribuzione delle bevande fredde dell'acqua. Beh, devo dire che gli ultimi quattro minuti sono stati un concentrato di novità. Diciamo che Zerica è particolarmente votata alle novità, alla tecnologia, all'innovazione, anche perché queste, quelle che hai descritto, sono attrezzature che da una parte rientrano nel segmento industry 4.0 per le attività e quindi ci sono i benefici fiscali. Dall'altra sono economiche e estremamente efficienti per il settore domestico. Assolutamente sì. Zerica ormai si è ritagliata a un posto di rilievo all'interno di una nicchia di mercato, quindi rivolta a una clientela sempre più esigente, sofisticata, attenta al design, ma soprattutto anche all'efficienza gestionale e di manutenzione. Auxilia è il nostro sistema informatico e digitale che permette la gestione da remoto di tutte le nostre attrezzature. oggi matura sostanzialmente sei anni dal suo sviluppo, quindi possiamo dire di essere non al passo con i tempi, ma di essere stati anche precursori nei tempi. Un sistema intelligente che permette di stare comodamente seduti sulla propria postazione di lavoro e poter governare e gestire tutte le nostre attrezzature. Questo oggi ha una particolare attenzione, soprattutto in un momento in cui bisogna anche fare i conti con la gestione economica delle attrezzature, delle manutenzioni, ma anche poter gestire e stimolare le vendite commerciali attraverso delle politiche dedicate sui gusti della nostra clientela. Alessandro, congratulazioni a te, allo staff della ricerca e sviluppo, alla produzione e soprattutto alla proprietà che ha continuato a investire su tutti voi e sui nuovi progetti per garantire all'azienda una crescita sempre maggiore e costante. Che posso dire con assoluta certezza non è finita qui oggi in host, abbiamo già dei progetti in cantiere che prenderanno presto la luce con l'inizio del 2022, presto troverete le novità sul nostro sito www.zerica.com, peraltro anch'esso totalmente ristilizzato sia nel design ma soprattutto nella sua fruibilità, sempre più una piattaforma user friendly a disposizione dei nostri partner. Ci poniamo dei ambiziosi obiettivi già a partire dal prossimo anno in ottica di sviluppo della nostra rete commerciale e sviluppo della nostra rete di distribuzione che vedrà sicuramente una maggior presenza dei nostri prodotti su tutto il territorio nazionale. E noi ne daremo conto per tempo attraverso orecanews.it e bendingnews.it. Alessandro, molte, molte, molte grazie. Grazie a te Fabio, un saluto a tutti voi.